Cargiver domande e risposte. Come si richiedono materassi, sedia a rotelle, pannoloni, eccetera? Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce ai cittadini affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, l'erogazione di protesi e di ausili come pannoloni, cateteri, carrozzine, letti o montascale, al fine di favorire l'autonomia personale. Le protesi e gli ausili erogabili sono indicati dettagliatamente nel nomenclatore tariffario. Il nomenclatore tariffario riporta tre elenchi di dispositivi, ognuno dei quali prevede particolari modalità di erogazione. Per accedere all'assistenza protesica non è necessario avere il verbale di invalidità civile. In alcuni casi è sufficiente aver presentato la domanda di invalidità ed essere in attesa della visita o della ricezione del verbale. In altri casi ancora, in cui l'urgenza è particolare, il dispositivo può essere richiesto dallo specialista e successivamente avviata la richiesta di invalidità.